Portami con te Portami con te, portami con te, lo può dire il bambino che arriva a Lampedusa in uno sbarco, magari con una maglietta di calcio di Zidane o di Del Piero e dice a chi lo ha soccorso portami con te, magari portami in un campo di gioco. Lo chiede anche una persona in carrozzina per essere accompagnata magari dovunque per dire portami con te. Portami con te significa dammi la mano, diamoci una mano. Questo è il messaggio che noi vogliamo inviare a tutti quanti quelli che seguiranno questa trasmissione che è lo sport al sociale. Il che non significa lo sport dei reietti, dei tristi, no, è lo sport dei grandissimi valori, della gente che suda fortemente e sono i veri e propri campioni, secondo noi. Portami con te, dà finalmente dignità a tutte quelle persone che sul territorio quotidianamente costruiscono occasioni di sport e occasioni di attività motoria per dare, offrire e darsi cittadinanza piena ed essere persone con una dignità a tutto tondo. Ce n'era bisogno, ce n'era bisogno per l'identità e la civiltà di questo paese. Quando Carlo Paris è stato nominato direttore di Rai Sport, la WISP ha fatto un'uscita dicendo finalmente la Rai dà un segnale chiaro al valore dello sport sociale. Beh, oggi con questa trasmissione, con Portami con te, perché porta i valori della WISP, porta i valori dello sport sociale, porta i valori dello sport di base, di tutti quegli operatori, quei volontari che davvero lo sport lo fanno e riescono anche ad esportarlo fuori dal nostro paese. Per questo noi diciamo che verremo volentieri, saremo trasportati anche noi insieme a questa grande trasmissione. Grazie.